Musica Allora, io sono... Intanto grazie. Grazie. Sono venuta qui perché immagino che abbiate passato notti insonne per sapere se c'ero o non c'ero tutti. E vabbè, siamo qua. Vi spiego il perché ci sono. Intanto ringrazio la RAI e Carlo di questa proposta. Per me è stato ed è motivo di orgoglio partecipare al Festival di Sanremo, che è il festival più importante per la musica italiana. Ringrazio Mediaset, in particolare per Silvio, perché mi conferma la totale libertà che vivo da anni nel poter scegliere cosa fare e come farlo. E poi... E già mi boicottate. E poi vi spiego cosa penso di fare e perché ho accettato questa proposta di Carlo. Allora, io sono... Intanto dichiaro la grande stima che ho per Carlo, se no non sarei qua. Volevo dire che la mia è una partecipazione vera e propria, saremo. Per partecipazione intendo con tutta me stessa, con tutta la mia stima, la mia empatia verso di lui. Quando parlo di partecipazione è perché quello che vengo a fare è proprio partecipare a questo festival. Lui è e rimane il direttore artistico del festival. Io non ho preso parte ad alcune delle decisioni riguardo al contenuto del festival. Non ho sentito le canzoni del festival di Sanremo, quelle né arrivate né selezionate. Non ho partecipato al contenuto del festival, perché penso che sia il festival della RAI e di Carlo. Però non avrei mai accettato di partecipare al festival se non avessi assoluta stima di Carlo e del lavoro che fa. Penso di avere dei punti in comune con lui, non tanto nella velocità della parola, quanto nel modo di pensare a volte al nostro lavoro, che è un lavoro come tanti altri, dove non si va, secondo me, alla ricerca di nessuno scandalo, tantomeno qui a Sanremo, quanto alla ricerca di un festival che abbia come centro la canzone, che è la cosa più importante. E quindi è questo il motivo per cui ho scelto di partecipare.